Alla scoperta della Fano della fine dell'Ottocento e dei primi dell'Ottocento attraverso gli scatti in bianco e nero di Gaetano Baviera. Non solo questo, per dire la verità questa opera curata, realizzata grazie all'impegno e alla determinazione di un'associazione culturale assolutamente prestigiosa, l'Università dei Saperi Grimaldi di Fano, fa giustizia di una dimenticanza che c'è stata anche qui per troppo tempo nei confronti di un grande della fotografia, di un precursore, di un caposcuola perché questo davvero artista ha realizzato degli scatti straordinari ma soprattutto ha portato a Fano la cultura della fotografia in quel tempo e era un proliferare di fotografi, di studi fotografici e questo libro ricorda questa figura. Lo fa attraverso scritti e lo fa attraverso immagini e lo fa anche attraverso immagini su un DVD. Un'opera davvero completa che parla di un grande artista e che ci consegna immagini di una Fano magari dimenticata ma immagini di straordinaria bellezza e che ci fanno riscoprire anche la Fano di oggi, l'evoluzione del tempo, il confronto con la Fano dell'epoca, insomma un'ottima operazione culturale.